Fedez, celebre rapper e influencer italiano, ha recentemente condiviso sui social dei video registrati in Puglia. Nei filmati, pubblicati in differita, Fedez indossa una sagoma di gomma raffigurante un uomo muscoloso, trasformandosi così in un vero e proprio culturista. Questa sagoma ha permesso al cantante di girare vari video, alcuni dei quali potrebbero essere destinati a scopi pubblicitari, mentre altri sono stati creati per divertire i suoi numerosi fan sui social media. L'iniziativa ha riscosso un notevole successo, suscitando curiosità e ilarità tra i suoi seguaci. La scelta di utilizzare un costume così originale dimostra ancora una volta la capacità di Fedez di innovare e intrattenere, sfruttando il potere dei social per mantenere alto l'interesse del pubblico. Ora, dopo questa parentesi pugliese, Fedez è tornato a Milano, pronto a riprendere i suoi impegni professionali e personali.